Al fischio finale e dopo l'ultimo rigore parato da Donnarumma e nonostante gli avvertimenti da parte del Ministero dell'Interno di evitare assembramenti, la gioia per la vittoria della nazionale italiana all'europeo di calcio è stata incontenibile. Da nord al centro-sud Italia le manifestazioni nelle principali piazze italiane, ma anche non sono mancati episodi poco edificanti. La gioia dei tifosi è esplosa in tutta Italia, da Roma, Napoli, Bari, Foggia, passando anche per Milano, dove alcuni episodi hanno turbato la situazione inerente all'ordine pubblico con tre persone perite, di cui tre in gravi condizioni. E anche numerosi soccorsi ad una quindicina di persone. Le piazze hanno gioito inattensamente per una vittoria che mancava da 53 anni e che adesso rende la vita degli italiani un po' più serena. Nimmo Siena, War News 24.